L'APRON di 511, il grembiule tattico da barbecue in tutto il suo splendore. Guardiamocelo insieme perché è disponibile su backpack.it Ovviamente tutte le informazioni sono sulla pagina del prodotto ma questo fa parte della divisa ufficiale dei rubber ribs 511 che ci accompagna sempre. Ce la portiamo sul podio. Sganciarlo è un attimo e riagganciarlo pure ma di solito noi lo togliamo e lo mettiamo da sopra la testa. Subito sul petto trovate una zona velcro formidabile e in regalo con questo grembiule ovviamente anche la patch dei rubber ribs. Ma non mancherò ad inserire anche quella di backpack. Finita la zona velcro troviamo immediatamente un taschino sul petto per la penna, il block notes con le ricette, quello che vi serve. Qui ci sta benissimo. Il logo in pvc di 511 è come una patch ma è cucito qui, sempre in vista. Pannello molle sul davanti ma come si fa senza un pannello molle? Qui ci agganciate accessori, noi per le notturne abbiamo anche delle torce che agganciamo qui, ci tornano utili. Anche le X-Shear sono parte della dotazione dei rubber ribs perché molte preparazioni in cucina vanno proprio fatte con le forbici e tornano sempre utili. Il tessuto è un misto cotone e poliestere che lo rende pratico e elastico. Ma è un prodotto pieno, pieno di sorprese. Infatti qui vedete la patch in omaggio che vi manda 511, quella della grilling machine. Ve la faccio vedere qui da vicino, guardate quanto è bella e stupenda. Due cinghiette sui fianchi per agganciare moschettoni, canovacci, quello che vi serve durante le grigliate, fanno davvero comodo. Guardate quanto è profonda la tasca principale. Fatemi fare una prova. Guardate un po', ci sta dentro una borraccia da un litro di Stanley. E qui sempre nella zona centrale avete altre due tasche, quindi un totale di cinque tasche, ma guardate che c'è nella tasca destra. Un apri bottiglie in metallo, un decapsulatore. Quando arriva l'amico con le birrette buone, il fustino magari è finito, zac, aperto, pronti per bere. E l'ultima cosa che ci rimane da vedere è il sistema di chiusura. È un sistema a clip, come gli zaini, ci piace da morire. Tutte le fibbie, anche nel grembiule di 511, sono in Duraflex, quindi non è semplice plastica. Tutte le informazioni su backpacko.it, con la patch dei Rubaribs in omaggio e ovviamente anche quella di Backpacko. Fate il tifo per noi che dobbiamo vincere il campionato.